Non riesco i tempi dalla porta del Camelot. Non la mettiamo in mezzo da quella che si andavano a petire, muoio mi. Ma che stai? Signora. Ma che stai? Tra l'unico, ma che stai? E che muoio mi, signora. Poi se mi ha lo... Si detto, ho se un paio lo dico. Si detto, e si è qui. E' la pianta mensua dai! Oito che! Oito botan de vino! E' un'acqua protectora! Oia! 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 Eyo! Oia! 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 rika! Oia! 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 Grazie a tutti